con cappellino in testa il mantello sulle spalle una veletta nera sul naso e un'altra che avrebbe sovrammessa alla prima appena salita sulla complice carrozza da nolo stava battendo con la punta dell'ombrellino quella dello stivaletto incapace di decidersi a uscire per andare a quell'appuntamento eppure quante volte negli ultimi due anni sarà preparata in quel modo nelle ore in cui il marito era alla borsa essendo un agente di cambio con tante relazioni professionali lei doveva raggiungere nell'appartamento da scapolo il bel visconte de martelet il suo amante dietro di lei l'orologio a pendolo batteva rumorosamente i secondi sul piccolo scrittoio in legno di rosa tra le due finestre restava spalancato a metà un libro che non aveva finito di leggere un profumo intenso di violette proveniva da due mazzolini dentro graziosi portafiori di sassonia posti sul caminetto mescolandosi a un vago sentore di verbena insinuatosi dalla porta dello spogliatoio rimasta socchiusa il suono dell'ora convenuta le tre la fece alzare in piedi si girò a guardare il quadrante poi sorrise pensando lui è già lì ad aspettarmi adesso diventerà nervoso allora uscendo avvertì il domestico che sarebbe tornato al più tardi un'ora dopo una bugia discese le scale e si non trova piedi per la strada erano ultimi giorni di maggio quella stagione deliziosa in cui la primavera pare che assedi parigi dalla campagna e la conquisti scavalcando i tetti invadendo le case attraverso i muri spargendo allegria sulle pietre delle facciate l'asfalto dei marsapiedi e i selci delle vie bagnandola e ubriacandola di linfa come un bosco che l'inverdisce la signora Hagan fece qualche passo verso destra con l'intenzione di seguire come sempre la rue de Provence dove avrebbe fatto un cenno a una carrozza ma la dolcezza dell'aria quell'emozione della buona stagione in arrivo che c'entra nel petto in certe giornate penetrò in lei così violentemente che cambiò idea e si avviò per la rue de Chassadantin senza sapere perché attratta oscuramente dal desiderio di vedere gli alberi nel giardino della chiesa della Trinité pensava ma aspetterà dieci minuti di più quest'idea la faceva sorridere di nuovo e pareva di vederlo perdere la pazienza guardare l'orologio aprire la finestra ascoltare dietro la porta sedersi per un attimo e subito rialzarsi e non osando fumare dato che glielo aveva proibito nei giorni del loro appuntamento lanciare sguardi disperati sulla scatola delle sigarette camminava ad agio ad agio distratta da tutto ciò che incontrava dalle persone e dai negozi rallentando sempre di più il passo così poco desiderosa di andare all'appuntamento che cercava una scusa per fermarsi davanti a tutte le vetrine in fondo alla via davanti alla chiesa la trassero tanto gli alberi verdeggianti che attraversata la piazza entrò dentro il giardinetto nel recinto dei bambini e fece per due volte il giro del praticello in mezzo alle balie dai lunghi nastri floride varie pinte spampanate poi prese una sedia si mise a sedere e alzando gli occhi verso il quadrante rotondo come una luna sul campanile si mise a osservare le lancette che si muovevano proprio allora rintoccò la mezza e il suo cuore ebbe un fremito nell'udirne i rintocchi mezz'ora guadagnata per sé più d'un quarto d'ora per arrivare a ruimi rosmenil qualche minuto ancora a gironzolare un'ora ecco un'intera ora rubata all'appuntamento vi sarebbe rimasta appena 40 minuti e anche per questa volta sarebbe finita dio che noia quegli incontri come un paziente che deve salire dal dentista portava dentro di sé il ricordo insopportabile di tutti gli appuntamenti passati uno alla settimana in media da due anni e il pensiero che stava per affrontarne un altro la faceva fremere d'angoscia in tutto il corpo non che fosse doloroso doloroso come una visita dal dentista ma era tanto noioso tanto noioso e complicato così lungo così penoso che avrebbe preferito qualsiasi altra cosa persino un'estrazione dentaria e tuttavia ci andava molto lentamente a passettini fermandosi sedendosi bighellonando di qua e di là ma ci andava avrebbe voluto mancar di parola anche oggi ma si era fatta aspettare inutilmente dal povero visconte già il mese scorso e non osava ricominciare così presto perché ci tornava già perché perché era ormai un'abitudine e perché non le veniva in mente una ragione plausibile da offrire al povero martellè che sicuramente glielo avrebbe chiesta perché aveva cominciato perché non lo sapeva più lo aveva amato forse non molto solo un pochino era passato ormai tanto tempo era un bel uomo lui raffinato elegante galante rappresentava proprio l'amante perfetto per una signora della buona società il corteggiamento era durato tre mesi periodo normale lotta onorevole resistenza accettabile poi con qualche emozione struggimento e deliziosa paura lei aveva consentito a un primo appuntamento seguito da tanti altri nel mezzanino nell'appartamentino da scapolo di Rimi Rosmenil il suo cuore che cosa mai provava il suo cuoricino di donna sedotta vinta conquistata marcando la soglia di quella casa da incubo a dire la verità non lo sapeva più se ne era dimenticata ricordiamo ricordiamo fatti date oggetti ma non ricordiamo niente dopo due anni di un'emozione svanita quasi immediatamente perché era tanto inconsistente ah no gli altri appuntamenti non li aveva dimenticati quel rosario di convegni quella via crucis dell'amore alle stazioni così faticose così monotone così uguali da farle salire alle labbra una nausea prevedendo quel che subito dopo sarebbe successo dio le carrozze pubbliche che doveva chiamare per andare sino là a Rimi Rosmenil non somigliavano alle altre a quelle che prendeva per le commissioni solite i cocchieri indovinavano tutto lo capiva da come la guardavano e sono terribili gli sguardi dei vetturini di parigi se si pensa che in un qualsiasi momento davanti al tribunale sono capace di riconoscere a distanza di molti anni i criminali che hanno portato una volta sola in piena notte da una strada qualunque alla stazione pur avendo a che fare con tanti passeggeri quante ore vi sono al giorno essi hanno una memoria così sicura da poter affermare questo è proprio l'uomo che ha fatto salire Rue de Martire ed è posto alla stazione di Lione a mezzanotte e quaranta il 10 luglio dell'anno scorso c'è dunque da tremare al pensiero di quel che rischia una donna quando va ad un appuntamento galante affidando la propria reputazione al primo venuto tra questi cocchieri in due anni ne aveva visti per quel tragitto sino a cui mirò smenil 100 o forse 120 facendo il calcolo su uno alla settimana altrettanti testimoni che potevano deporre contro di lei in un momento critico appena in carrozza tirava fuori di tasca l'altro velo più fitto e più nero una vera maschera e se lo applicava sul volto bastava nascondere il viso ma il resto il vestito, il cappello, l'ombrellino potevano essere notati forse davano nell'occhio oh che tortura quella di mirò smenil ne pareva di riconoscere i passanti le persone di servizio tutti appena la carrozza sarà fermata ne saltava giù e passava di corsa davanti al portinaio sempre in piedi lì sulla soglia della guardiola eccone uno che certo doveva sapere tutto proprio tutto di lei nome, indirizzo, professione del marito tutto perché i portieri la sanno molto più lunga dei poliziotti già da due anni voleva comprarselo lasciandogli mentre gli passava davanti una banconota da cento franchi ma nemmeno una volta aveva avuto il coraggio di compiere quel piccolo gesto di lanciargli ai piedi quel pezzetto di carta arrotolato aveva paura di che? non lo sapeva aveva paura ad essere richiamata indietro se quello non avesse capito di uno scandalo di un capannello di gente per le scale di essere forse arrestata per arrivare sino alla porta del visconte c'era soltanto una rampa di scale da fare ed era come se avesse dovuto salire in cima alla torre Saint-Jacques appena entrata nell'andito si sentiva presa in trappola e il minimo rumore davanti a lei o alle sue spalle le dava una sensazione di soffocamento impossibile tornare indietro con quel portiere e quella gente per la via che le procludevano ogni ritirata e se scendeva qualcuno proprio in quel momento lei non aveva il coraggio di suonare alla porta di Martellè e la oltrepassava come se fosse diretta altrove e saliva, saliva, saliva avrebbe fatto quaranta piani poi quando pareva che tutto fosse tranquillo nella tromba delle scale ridiscendeva precipitosamente con la preoccupazione di sbagliare pianerottolo e lui era lì ad aspettarla in una elegante giacca di velluto foderata di seta molto civettuola ma leggermente ridicola in due anni non aveva cambiato niente della sua maniera di accoglierla niente, nemmeno un gesto appena chiusa la porta diceva immancabilmente lasciate che baci le vostre mani cara, cara amica poi la seguiva nella camera da letto in cui le imposte erano chiuse e le luci accese inverno ed estate certo per uno sfoggio d'eleganza e le scinginocchiava davanti guardandola dal basso in atto di adorazione il primo giorno tutto era stato molto carino e quel gesto le era sembrato perfetto adesso le sembrava di vedere il signor De Luni mentre recitava la centoventesima replica del quinto atto di una commedia di successo avrebbe dovuto cambiare i suoi atteggiamenti teatrali e dopo? oh dio mio dopo! era il momento più ostico no, non era capace di inventare niente di nuovo povero ragazzo un bravo ragazzo, sì ma così sprovvisto di fantasia era già così difficile svestirsi senza l'aiuto di una cameriera vada per una volta ma doverlo fare tutte le settimane diventava insopportabile no, davvero un uomo non dovrebbe mai esigere da una donna una fatica simile ma se spogliarsi era difficile rivestirsi da sola era un'impresa ardua da far venire la voglia di urlare tanto la esasperava sino ad aver voglia di schiaffeggiarlo quel signorino che le girava attorno con un'aria impacciata e diceva volete che vi aiuti? aiutarla? e in che modo? non era capace di far niente per saperlo bastava vedere come teneva uno spillo tra le dita era forse in quei momenti che aveva cominciato a trovarlo antipatico sì sì quando diceva volete che vi aiuti l'avrebbe ammazzato e d'altra parte come si fa a non detestare un uomo che in due anni l'aveva costretta a rivestirsi più di centoventi volte senza l'aiuto di una cameriera certo che incapaci come lui ce n'erano pochi così semi addormentato e monotono e certo il giovane barone di Grimbal non le avrebbe mai chiesto con aria idiota volete che vi aiuti? lui l'avrebbe aiutata lui così vivace estroso e spiritoso e perché? perché era un diplomatico aveva viaggiato era stato dappertutto aveva spogliato e rivestito chissà quante donne acconciate secondo tutte le mode dell'orbe terraqueo quello lì l'orologio della chiesa suonò i tre quarti si alzò guardò il quadrante e le venne da ridere mentre mormorava chissà come sarà arrabbiato e poi con passo allegro uscì dal giardinetto non aveva fatto dieci passi sulla piazza che si trovò faccia a faccia con un bel signore che le fece un profondo inchino oh guarda proprio voi barone disse sorpresa perché aveva pensato a lui pochi istanti prima proprio io signora il barone si informò della sua salute e appena dopo uno scambio di frasi generiche riprese sapete che siete la sola permettete che dica tra le mie amiche vero che non sia ancora venuta a visitare la mia collezione giapponese ma caro barone una signora non va mai in casa di un uomo celibe come è un errore nel caso si tratti di visitare una collezione molto rara comunque non deve andarci da sola e perché no se sapeste quante signore sole ho ricevuto per mostrare la mia galleria ne ricevo tutti i giorni volete che ve le nomini no no non lo farò bisogna essere discreti anche nelle cose che non nascondono nessuna colpa di regola non è sconveniente andare in casa ad un uomo serio stimato in società che ha una certa posizione e una vecchia cameria raffidata a meno che non ci si vada per una ragione inconfessabile in fondo quello che avete detto è giusto questo significa che venite a vedere la mia collezione quando? ma subito impossibile ho fretta ma via sei mezz'ora che siete seduta in quel giardinetto mi spiate? vi ammiravo davvero? ho fretta sono sicuro che non è vero confessatelo la signora Hagan confessò ridendo no veramente non ho tanta fretta passava una carrozza che quasi li sfiorò e allora il giovane barone chiamò il vetturino e la carrozza si fermò davanti a loro lui aprì lo sportello salite signora ma no barone non è possibile oggi salite signora non commettete imprudenze la gente comincia a guardarci provocherete un assembramento perché penseranno che vi sto rapendo forse ci arresteranno entrambi salitevi scongiuro scomentata stupefatta lei salì allora lui sedendosi al suo fianco disse al cocchiere ruy de provence subito la signora esclamò mio dio dimenticavo un dispatto urgentissimo per favore conducetemi prima in un ufficio telegrafico la carrozza si fermò poco lontano in ruy de chatedain lei disse al barone volete prendermi un modulo da 50 centesimi ho promesso a mio marito di invitare martellè a pranzo per domani e me ne ero completamente dimenticata quando il barone fu di ritorno col modulo azzurro nella mano lei vi scrisse a matita caro amico sto poco bene una tremenda emicrania mi costringe a letto non posso uscire venite a pranzo domani sera perché possa farmi perdonare jean ummettò la lista gommata chiuse il biglietto con cura e vi tracciò l'indirizzo vi sconte e poi riconsegnando il biglietto al giovane barone disse adesso siate tanto gentile da mettere questo nella cassetta della posta pneumatica da mettere il biglietto da mettere il biglietto di lungatica che siate잖아 mi costringà prima cosa mi costringà siate a chiudene la parte di lungatica c'erano